Sulla questione Gran Sasso, voi parlate di un'escalation radioattiva, lanciate un forte allarme, perché? Perché è inaccettabile l'esperimento che vogliono fare nel Gran Sasso, che prevede l'arrivo da una centrale nucleare russa di parte di combustibile nucleare, di un reattore nucleare, che viene prima riprocessato a Mayak, sempre in Russia, e poi trasferito tramite la Francia al Gran Sasso, dovrebbe arrivare una sorgente radioattiva di mani proporzioni. Stiamo parlando, da un punto di vista poco tecnico, della stessa quantità di potenzialità emissiva di quanta radioattività è andata nel mare a Fukushima. Stiamo parlando di una quantità immensa da piazzare dove, dentro, in sotterraneo, nel Gran Sasso, un'area sismica di altissimo rischio, in un laboratorio che già ora è a rischio di incidente rilevante, perché ci sono migliaia di tonnellate di sostanze pericolose, peraltro questa sorgente radioattiva verrebbe messa proprio sotto centinaia di tonnellate di idrocarburi infiammabili, il trimetilbenzene. Lì c'è tutta l'acqua che praticamente beviamo sia a Pescara, che a L'Aquila, che a Teramo, a Chieti anche. Il Gran Sasso e la nostra sorgente d'acqua per eccellenza sarebbe veramente un eventuale incidente. È chiaro che arriverebbe questa sorgente schermata, per far capire che devono schermarla talmente tanto che hanno dovuto inventare e costruire un contenitore di tungsteno di 19 centimetri mai realizzato al mondo. Però, nonostante questo, qualcosa anche esce. Lo ammettono loro stessi in termini radioattività. Ma chiaramente noi siamo spaventati dal potenziale incidente, perché pur i reattori nucleari sono schermati fino a quando poi accadono gli incidenti che abbiamo visto.